person dati amici temi e benvenuti in questo nuovo video sulla lingua albanese in questo video vi voglio insegnare gli insetti nella lingua albanese l'insetto in albanese si dice insect, insecti quindi cominciamo con il primo il primo insetto è l'ape in albanese l'ape è bleta quindi ape blet, l'ape bleta ad esempio mi appunto un'ape in albanese noi diciamo l'altro insetto è la formica in albanese formica si dice milingon la formica milingona ad esempio le formiche lavorano molto tutta l'estate in albanese noi diciamo milingonat punoin shum giaggith veres farfalla in albanese flutur flutur la farfalla flutura 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 ad esempio ho le farfalle nello stomaco in albanese noi diciamo kam flutura kam flutura ne stomaco mosca in albanese miz 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 la mosca miz 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 ad esempio qe una mosca sul sofito in albanese diciamo është një miz në tavan është një miz në tavan il ragno merimanga merimanga ragno merimang merimang ad esempio o paura dai ragni in albanese kam flutur kam flutur nga merimangat kam flutur nga merimangat zanzara një në albanese mushkojnj mushkojnj la zanzara mushkojnja mushkojnja ad esempio o kyuso la finestra per lashare le zanzare fuori një albanese e mbyla dritarlen për të mbajtur mushkojnjat jashtë e mbyla dritarren për të mbajtur mushkojnjat jashtë il verme in albanese krimbi krimbi verme krimb krimb ad esempio avevo manjato metade la mela këndo skoperto ke li qera un verme in albanese un e kishan grën gjysmën e molës para se të viare se aty ishte një krimb un e kishan grën gjysmën e molës para se të viare se aty ishte një krimb l'ultimo inseto ke decizo per foj e la lumaka kërmili kërmili lumaka kërmil ad esempio le lumache si muovono piano kërmint lëvisin gadal kërmint lëvisin gadal quindi vediamo cosa abbiamo imparato oggi gli insetti nella lingua albanese l'abe blëta blëta la formika milingona milingona la farfalla flutura flutura la moska misa misa il ragno merimanga merimanga la zanzara mushkogna mushkogna il verme kërmbi kërmbi e la lumaka kërmili 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 quindi se vi piacciono i miei video iscrivete sul mio canale Viola DJ ho la pagina Facebook Let's Learn Obanion il gruppo Facebook Learn Obanion with Viola Instagram Twitter e il mio indirizzo YouTube verLC ok verLC iscrivete se vi